C'è il fatto! Gianni Ciardo, mattatore della serata a Crispiano, in un teatro comunale gremito in questo strascico di festività natalizie. Abbiamo voluto regalare al comune di Crispiano e ai cittadini questa serata, che è un preludio a quello che faremo, agli appuntamenti estivi che faremo, organizzando con il comune di Crispiano e Assessorato della Cultura questa serata, dedicata al cabaret e alla musica. Ospiti notissimi, Gianni Ciardo, che già ci è venuto a trovare, premio alla carriera a Crispiano, anche lui, Gaetano De Caro, X-Factor, reduce dal bel successo con Ambra, e i Gagios, anche loro Sanremo Rock, quindi una serata tra musica e cabaret. Ma beh, no, ma io faccio complimenti veramente a Crispiano e i suoi 13.000 abitanti. Come si chiamano gli abitanti di Crispiano? Crispianessi. No, i nomi, i nomi. Vabbè, tanti auguri anche per quest'anno nuovo 2024, che sicuramente sarà meglio del 2020. Io sono già stato qui, non al teatro comunale, ma ho partecipato al cabaret nel 2022, e sono molto contento di tornare qui, e sicuramente si farà qualche altra cosa con Crispiano e con la People Agency. Bene, e ognuno ha i problemi suoi, beh, c'è a fare.